A State of the Net abbiamo parlato di rete, di connessioni, di relazioni, di complessità, di aziende che imparano a sfruttare le opportunità che la rete mette loro a disposizione per entrare in contatto con le persone, persone che incontrano altre persone. A State of the Net ci chiamo di fare questo, mettere in comunicazione persone, idee, guardare agli sviluppi della rete, della società attraverso la rete con uno sguardo e una sensibilità contemporanea e internazionale e sentire molte storie da molte persone diverse. Se riusciamo a dare un'opportunità a questo territorio per connettersi a un mondo di innovatori che nel resto del mondo è già piuttosto avanti rispetto a noi, credo possa essere una buona opportunità.